Buongiorno a tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento della nostra rubrica Andrea e Valeria Auto Review. Come ogni due settimane, andremo a recensire le vetture che potrete trovare nel nostro salone vendita o più generalmente nel commercio nel mercato automobilistico di oggi. Oggi andremo a presentarvi la nuova Fiesta. Eccoci all'interno della nostra Ford Fiesta. Come possiamo vedere all'interno lo spazio risulta un pelino risicato ma comunque sufficiente per un utilizzo quotidiano. Abbiamo le dotazioni essenziali all'interno della vettura. Andiamo a provarla. Alla guida si sente un motore pronto ed elastico anche perché è un 1.5 da 75 cavalli molto ben binaggiato a quello che è l'utilizzo della vettura. Questa vettura possiamo dire che va rivolta diciamo a un pubblico di massa, quindi a neopatentati piuttosto che a un utilizzo proprio quotidiano all'interno della città. Infatti appartiene al segmento delle city car. Ricapitolando, la nuova Ford Fiesta è un classico di casa Ford ed è un must per l'utilizzo cittadino. Tra i suoi lati positivi possiamo apprezzare un'estetica innovativa, ottimo rapporto quali da prezzo, ricca dotazione di serie, gamma e motorizzazioni complete per il suo segmento. Tra i punti da rivedere possiamo dire che non è una vettura comodissima per i viaggi in lungo percorrarsi. Anche per oggi è tutto, andiamo a rivederci alla prossima puntata in Andrea Valeria Auto Review. Ci vediamo tra due settimane. Buttate sempre un occhio a quello che vedrete tra due settimane. La C-Max è una monovolume di casa Ford giunta ormai alla sua terza versione. Grazie a tutti.